Terza edizione per Ti presento il Comune, questa bellissima esperienza, questo bel progetto che ho voluto costruire nel 2021 in cui ho coinvolto fino ad ora oltre 2.000 studentesse e studenti delle scuole elementari, scuole medie e scuole superiori. Un progetto che consente di sapere come funziona il Comune, cosa è il Sindaco, cosa fa il Presidente del Consiglio Comunale, come funzionano i processi decisionali. Spesso siamo abituati, come è giusto che sia, a sapere come funzionano le istituzioni europee e come funzionano quelle italiane, ma i processi decisionali dietro casa non sappiamo come funziona. Noi questo possono toccarlo con mano, con una simulazione che a tutti gli studenti e studentesse che aderiscono al progetto tramite la loro classe, possono fare nella sala del Consiglio Comunale. Anche quest'anno lo riproponiamo, i ragazzi e ragazze più piccoli, quindi delle scuole medie e degli studi di comprensivi, potranno portare a casa un kit da gioco con cui riproporre e moltiplicare le conoscenze che hanno avuto in questa esperienza e i ragazzi delle superiori con cui avere la possibilità chiaramente di approfondire il tema anche dal punto di vista amministrativo, giuridico e aumentare e incrementare la partecipazione alla vita della comunità. Molti di questi infatti partecipano al forum giovani, chiedono come poter mettersi a disposizione della propria comunità e dell'interesse collettivo. Quest'anno la novità è che aggiungeremo oltre questo format che ha funzionato fino ad ora, come dicevo, con oltre 2.000 studenti, aggiungeremo un appuntamento in più per i ragazzi più grandi, quindi andremo in classe, nelle scuole superiori, nelle quarta, quinta superiori, le scuole classiche aderiranno e costruiremo da lì le proposte per il sindaco che poi verrà in consiglio comunale a simulare il proprio programma di governo e potrà approdarsi che avremo anche delle belle proposte, anche reali dal punto di vista cittadino.